Ok? Cioè, ho risposto qua alla domanda o devo fare altre cose? Dittimi. Sono le basi, sono le basi. Ma dei supporti alle... Certo che supporto, ovvio. Che domanda fate? Che cazzo di domanda è? Certo, ovvio. La taglia un giorno lo dirai. Non credo, non credo che lo dirò. Pensate questo è un top.